39 alberi primi ad essere abbattuti per far passare la nuova linea del tram volta Barozzo stazione sono iniziati i tagli disposti dal comune nel tratto della passeggiata Bianchini tra via Stografi e l'ospedale Sant'Antonio. Si tratta di alberi ritenuti pericolosi dal comune che sarebbero comunque rientrati nel piano degli abbattimenti. L'associazione Norotaglie da sempre contraria al progetto del tram contesta però questa decisione. La scusante dell'albero malato e quindi bisogna toglierlo purtroppo non regge in quanto il documento proprio del settore vede lo specificava dicendo che gli alberi bisogna tagliarli perché il momento stesso che si scava purtroppo si tagliano le radici. Dicono che sostituiranno gli alberi? Sì ma metteranno dei ramoscelli come li abbiamo già visti per la città li abbiamo proprio dietro alla telecamera ce ne sono cinque che sono stati piantati recentemente presumo dall'altezza 4-5 anni di 5-2 sono morti sono secchi questi sono gli alberi che pianteranno e che non potranno mai avere la stessa grandezza di alberi di 20-30-40 anni. Appena due settimane fa quando è partito il cantiere della futura fermata davanti al liceo Cornaro l'assessore Andrea Ragona aveva assicurato che gli alberi abbattuti verranno poi sostituiti non appena la stagionalità consentirà nuove piantumazioni. E' evidente che magari in una prima fase qualcuno vedrà solo degli abbattimenti c'è da dire che però quando sarà concluso il tram prossimamente soprattutto nei periodi in cui si può piantare questo non è un periodo nel quale si può piantare andremo a piantare circa un migliaio di nuove alberi e 2000 arbusti. Il saldo complessivo dal punto di vista della CO2 è quindi molto positivo. Proprio nelle scorse ore intanto il sindaco Sergio Giordani aveva esortato i padovani ad avere pazienza in questo periodo in cui i cantieri del tram entreranno nel vivo creando alcuni disagi e la viabilità. Ma la svolta green che dovrebbe portare il nuovo mezzo non convince affatto l'associazione Norotaglie che da anni presenta esposti contestando l'efficacia dell'opera. Non vai a togliere del verde pubblico per metterci un mezzo di metallo su una gettata di cemento perché di quello parliamo non corre sull'erba sta a fare, corre su rotaie, corre su gomma, corre con la linea elettrica, corre a batterie con tutti quanti in mezzo.